Si è messo in contatto via messenger con la sua famiglia. Il 61enne francese è scomparso lo scorso 26 di luglio da una casa a vacanze a Cigiano nel comune di Civitella in Valdichiana. L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. L'allarme era stato lanciato dalla famiglia che non lo ha visto rientrare a casa dopo alcune ore. Attraverso un post su Facebook tantissime centinaia erano state le condivisioni del messaggio che parlava appunto della scomparsa. Carabinieri e Vigi del Fuoco hanno portato avanti le ricerche anche con l'aiuto delle unità cinofile del gruppo SAF e del nucleo elicotteri fino a questa mattina quando appunto l'uomo si è messo in contatto personalmente con la famiglia. Dopo il tam tam attraverso Facebook è stato ancora una volta il social network ad essere stato scelto dalla famiglia per ringraziare. Buongiorno a tutti, vi ringrazio ancora per l'aiuto. Anche stamattina altri angeli, leggiamo nel post, hanno condiviso i miei link. Vi comunico che stamattina Joel si è messo in contatto via messenger con la sua famiglia. A questo punto ci sono ottime speranze che tutto si concluda nel migliore dei modi.